Buonasera a tutti i tre spettatori di Lente Ingrandimento e buonasera alla Sindaco di Napoli Luigi De Magistris come sempre nostro ospite buonasera Sindaco. Sindaco purtroppo dobbiamo aprire con una tragedia che ha colpito tutti noi la cattedrale di Notre Dame simbolo di religione di pace e di cultura a Parigi brucia e a piangere non soltanto i francesi ma veramente tutto il mondo. Sì sono davvero immagini strazianti che colpiscono penso gli abitanti di tutto il mondo immagini tristiche hanno fatto il giro del mondo un luogo che tantissimi di noi hanno visitato un simbolo del nostro continente non solo di Parigi e della Francia noi chiaramente esprimiamo e abbiamo già espresso vicinanza della città di Napoli alla città di Parigi tra l'altro il nostro popolo è particolarmente legato al popolo francese per una serie di ragioni storiche quindi siamo davvero rattristati convinti però che ci sarà una grande mobilitazione per immediatamente cominciare i lavori di restauro e di ristrutturazione certo spiace però verificare che possano accadere cose di questo tipo durante i lavori di di ristrutturazione veramente veramente incredibile sinceramente sì questo lascia un po sgomento. Le ha mandato un messaggio personale? Sì sì ho mandato un messaggio a Macron che aveva avuto parole bellissime per Napoli sia a Macron sia la sindaca di Parigi che conosco personalmente sia al console francese qui a Napoli veramente è una situazione bruttissima tra altro poi al ridosso della Pasqua quindi insomma sono immagini di morte perché quando si distrugge anche per atti appunto non di tipo terroristico di guerra un simbolo storico della cultura veramente sembra quasi la fine di qualcosa che è intramontabile quindi lascia veramente sgomenti. Sindaco parliamo della visita del capo dello Stato a Napoli la settimana scorsa una visita importante perché è un segnale forte lo Stato c'è e non verranno lasciati soli gli abitanti di alcuni quartieri che hanno chiesto proprio aiuto al Presidente della Repubblica Mattarella. Grazie Presidente, Presidente, Grande Presidente, Grande Presidente. E allora il capo dello Stato è stato accolto in maniera festosa prima al Museo di Capodimonte per la mostra su Caravaggio poi a Rione Sanità e poi in visita assolutamente privata dove ha anche ascoltato la messa al Rione Villa San Giovanni a Teduccio teatro nei giorni scorsi di un agguato di camorra davanti a una scuola dove è morto un uomo 57 anni. Un segnale forte sindaco? Sì, lo abbiamo accolto innanzitutto a Capodimonte ed è una visita molto importante per una serie di ragioni. Velocemente ne indicherei tre. La prima Caravaggio, quindi ancora una volta Napoli città capitale della cultura che viene scelta per una mostra così importante. In questo momento tra le tante mostre abbiamo Canova Alman e Caravaggio a Capodimonte. Il Presidente è rimasto colpito e catturato. Ero presente con lui di questa mostra che è davvero bellissima anche per come è allestita. Secondo messaggio è il quartiere Sanità, dove ormai da anni è nato un laboratorio unico per contaminazioni di esperienze, associazionismo, reti civiche, comitati, parrocchie, la municipalità, il comune. Un quartiere completamente rinato, di grande effervescenza culturale, economica e di vivacità. Poi ultimo, ma non per ultimo, di importanza, anzi forse prima per importanza, la visita a Rione Villa, quartiere San Giovanni, per dimostrare la vicinanza del vertice dello Stato, il Presidente della Repubblica, alle persone che lottano contro la camorra. Quindi parrocchia, scuola, comunità, mamme, città. Quindi il messaggio è molto forte. Del resto anche io mi sono permesso di chiedere allo Stato forse il minimo sindacale in questo momento, perché lo Stato è arretrato, talvolta ostile, l'abbiamo visto in questi anni. Non parlo del Presidente, chiaramente, per Stato intendo i governi. Due cose ci siamo limitati a chiedere, anche in queste ore con la visita del Presidente. Uno, la sicurezza. Del resto è la domanda principale che mi fanno i cittadini in questo momento, la sicurezza è il compito principio dello Stato. Quindi lo Stato deve prevenire e reprimere. Punto. Secondo, basta discriminazioni nei confronti delle città. Salva Roma, 12 miliardi per Roma, tagli agli altri enti locali. La città di Napoli ha dato tanto in questi anni e la visita del Presidente ce ne ha dato atto. La città è completamente cambiata in questi anni. Poi possiamo chiedere sempre a ogni persona di più, non c'è mai un limite che è invalicabile. Però, sinceramente, oggi non è il giorno di chiedere a Napoli, ma è un giorno che Napoli ha il diritto, dovere, di chiedere allo Stato di non fare più parole, ma fatti. Ed è quello che ho detto anche al Presidente della Camera che ha accompagnato in questi giorni il Presidente del Presidente. E poi ascolteremo il Presidente della Camera Fico che si è recato proprio alla scuola Vittorino da Feltre. Sindaco, ci aspettavamo forse anche a sorpresa la visita del Ministro dell'Interno Salvini in questa occasione, ma non c'è stato. Forse non avrebbe guastato questo clima di grande coesione istituzionale. Ogni volta che viene assistiamo a propagande, luoghi comuni, qualche volta anche insulti nei confronti della città. Al Ministro dell'Interno più che fare giri per l'Italia e parole chiediamo quello che deve fare un Ministro dell'Interno. Io so che lui sta molto poco al Viminale, gira molto a far politica. Probabilmente se desse direttive… mandale. Quelle garantirebbero più controllo. Probabilmente ci sarebbe stata una volante davanti alla scuola Vittorino da Feltre dove c'è stato l'agguato Camorrisse o anche perché a Rione Villa avevano già sparato. Probabilmente se le parole del Ministro dell'Interno, della sua propaganda, si fossero trasformate in fatti, non dico che quell'omicidio non ci sarebbe stato, ma sarebbe stato più difficile effettuare un agguato alle 7 e mezza del mattino, alle 8 del mattino davanti a una scuola. Intanto c'è bisogno di sicurezza. Il Ministro dell'Interno invece ribadisce la linea assolutamente dura nei confronti degli immigrati. Un'altra direttiva ha siglato per evitare che le organizzazioni non governative possano salvare vite umane in mare anche nelle acque territoriali. Si riferisce in particolare alla nave Ionio dell'Associazione Mediterranea. Chiaramente la situazione in Libia, si prevede con la situazione in Libia che è fuori controllo ci saranno tanti profughi che arriveranno sulle nostre coste. Ma lui distoglie molto l'attenzione. Lui in questo è abile, anche se un po' alla volta lo si sta smascherando, perché lui vuole far intendere che il problema alla sicurezza del nostro paese siano delle persone in mezzo al mare. Tra l'altro lui attacca le ONG perché sono testimoni di quello che fanno i trafficanti di esseri umani, che Salvini insieme ad altri governanti dovrebbe reprimere e non consentire a queste persone di essere riportate in luoghi lager che si trovano in Libia. Io ho raccolto testimonianze, audizioni e intercettazioni su come vengono violentate, come le persone vengono seviziate e torturate in questi posti. La Libia è un altro fallimento dell'Occidente. Si fece una guerra qualche anno fa per, si disse, portare la democrazia in Libia. Vedete sotto gli occhi di tutti che cos'è la Libia, con i rischi concretissimi che diceva lei e l'Italia è ancora più a rischio, perché questo ministro dell'insicurezza, oltre a non garantire la sicurezza dei territori esortando i cittadini ad armarsi per difendersi da sola, sta esponendo, l'ho detto diverse volte, il nostro paese a rischi enormi, perché costruendo questa comunità dell'odio e del rancore nei confronti degli africani, che poi sono popoli a noi vicini, con cui abbiamo storici rapporti di amicizia con i popoli del Mediterraneo, questo alimenta un clima d'odio nei confronti dell'Italia, che qualche cosa si verifica anche negli ultimi tempi nel nostro paese. Quindi io sono molto preoccupato da questo punto di vista, l'incapacità del governo di gestire la politica estera, la diplomazia con la Libia e queste frasi roboanti del ministro dell'interno che per portare voti al suo partito sta esponendo l'Italia a rischi concreti anche di repressioni, di reazioni da parte di chi si sente colpito. Comunque il ministro dell'interno oggi ha detto che quest'ulteriore direttiva che è assolutamente restrittiva, relativa a questa nave che secondo lui ha agito anche al di là delle regole e per evitare che arrivino sulle nostre coste terroristi libici. Quindi insomma sta sottolineando questo elemento. Ma lo Stato ha tutti gli elementi per verificare nel momento in cui si controllano le persone quando vengono fermate in mare o nei porti, ha tutti gli elementi per verificare se passa qualche terrorista. Ripeto, questo è tutto un modo per far credere al nostro paese che lui argina l'invasione. Noi avremmo bisogno di governanti che cooperano con i paesi dell'Africa per evitare che queste persone scappino dalle loro terre che amano. Questo l'Occidente non ha mai fatto e chiaramente non è una responsabilità solo di Salvini e di questo governo, ma non si inverte la rotta. Anzi, continuiamo con le stesse metodologie, cioè quello di creare una situazione di terrore e quasi come dire di panico nei confronti di un'invasione che se ci dovesse essere sarà proprio colpa di quelli che gridano al lupo al lupo e sono quelli che hanno creato proprio le condizioni perché ci siano questi flussi migratori così forti e così spaventosi. Ci torniamo a parlare del quartiere San Giovanni e Rione Villa. Abbiamo detto che ha fatto tappa anche il Presidente della Camera Roberto Fico. Bisogna passare dalle parole ai fatti. Ascoltiamolo in questa intervista e la commentiamo insieme. Ci vuole maggiore sicurezza e maggiori controlli in tutta la municipalità, ma soprattutto in questo momento, in questa via, in via Sorrento, dove spesso avvengono stese. Ci vuole un presidio ancora più forte e reale del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine, da parte dei vigili urbani e quindi del Comune di Napoli. Questo è il primo punto. Secondo punto, videosorveglianza nella scuola e attorno alla scuola. Terzo punto, ci vuole assolutamente, chiaramente non vale solo per questa scuola, un piano di sostegno vero alle famiglie e dall'altro lato un piano di assunzioni enormi di assistenti sociali. Tutti i propositi sono buoni, bisogna vedere poi concretamente, considerando che poi Roberto Fico è il Presidente della Camera, quindi il Governo fa parte del Governo, vediamo poi cosa porteremo a casa come risultato. Sono molto chiare le parole di Roberto Fico e chi è che non le condivide, come è molto chiara la domanda e la chiosa con cui lei mi ha dato la parola, sono parole. Roberto Fico è una persona autorevole che può incidere, quindi può incidere ad esempio alzando il telefono e chiamando Di Maio, che come lui è il cofondatore del Movimento 5 Stelle, di dire mettete le risorse umane ed economiche per rafforzare le forze di Polizia, Polizia Municipale, anche qui mettete le risorse, tra l'altro ho pure parlato con Roberto Fico, lo stesso vale per i maestri di strada, per gli assistenti sociali e per gli operatori. Se voi tagliate agli enti locali e poi date 12 miliardi per Roma, per me è molto facile rispondere, ma con affetto con simpatia e con lealtà che gli dico questo a Roberto Fico, lo dico pubblicamente perché l'ho detto anche a lui, voi avete l'opportunità, state ai vertici dello Stato, se non si ha la possibilità di assumere gli assistenti sociali a Napoli, tutto sommato abbiamo una situazione quasi di lusso rispetto agli altri comuni della città metropolitana, stanno comuni dell'Interland napoletano che hanno un assistente sociale in contesti di maggiore degrado ancora rispetto per dire alla situazione di Rionevilla, così come è chiaro che lui fa via Sorrento, Rionevilla, ma purtroppo non c'è solo via Sorrento, allora se vogliamo dare alle belle parole di Fico un seguito di fatti, io mi aspetterei nei prossimi settimane che a queste parole che già altre volte ci sono state, seguano dei fatti, invece ahimè, ahimè lo dico con rammarico, anche a parole condivisibili come queste, dette qualche mese fa, sono seguiti i tagli, io vorrei ricordare che a fine anno il governo, sostenuto anche da Roberto Fico, ha tagliato per 120 milioni di Euro al Comune di Napoli, se noi andiamo a provare in questa settimana il bilancio in Consiglio Comunale dove non tagliamo e addirittura c'è un piano assunzionale, lo dobbiamo esclusivamente alla capacità di amministrazione, di riscossione di lotta all'evasione che nonostante il governo nazionale ha messo in campo questo Comune, ecco per cui uno certe volte poi si appassiona e reagisce pure un po' perché siamo abituati a queste parole da troppo tempo, ci auguriamo che finalmente ci sia una svolta che alle parole comprensibili, condivisibili seguano dei fatti, perché finora abbiamo avuto belle parole di Roberto Fico e cattivi fatti da parte del governo, a questo delle due l'uno, o Fico non si riconosce più in questo governo, e che potrebbe anche darsi, oppure ho un modo per fare come dico io sempre le due facce, cioè da una parte la faccia rassicurante di Fico così le persone non fanno perdere consenso al Movimento 5 Stelle e dall'altro i fatti di un governo che fa da stampella a Salvini e che finora nei confronti di Napoli e del mezzogiorno è stato, non voglio dire peggiore, ma stiamo lì, se la giocano con i governi del centro-sinistra guidati da Renzi. Sicuramente una prova importante per il Movimento 5 Stelle saranno le elezioni europee per capire poi quanto consenso ha perso o se magari guadagna qualcosa, c'è da dire che forse si capirà se il governo avrà vita lunga proprio dopo le europee. Il vento che ha caratterizzato positivamente il Movimento 5 Stelle prima delle elezioni del 4 marzo 2018 non c'è più e non ci sarà più. Io non credo che loro possano ricostruire quel feeling perché il capolavoro politico che è stato fatto, dico eronicamente, da Di Maio nei confronti della Liga è una macchia che rimarrà per sempre nella storia del Movimento. Il Movimento si è rappresentato un movimento di rottura, di cambiamento, ha fatto diventare quest'uomo Salvini, il leader politico di fatto del governo, quindi l'ha legittimato, l'ha ripulito, l'ha riabilitato. Infatti si vede la sofferenza e la fatica di una persona come Roberto Fico che è sincero quando dice quelle cose, che però quanto può durare questa situazione? Quindi lei vede un rapporto molto allogorato tra Di Maio e Fico. Io per esempio non riuscirei a stare in una situazione di questo tipo, non avrei mai consentito e come dire me ne sarei uscito sicuramente perché ho conosciuto i meet up, ho conosciuto il Movimento, so che ci sono delle anime che sono completamente antitetiche rispetto alle politie di Salvini, non puoi stare in un contratto di quel tipo, quindi questa immagine, questa fotografia non potrà durare a lungo perché basta alzare un po' il tiro, esatto le contraddizioni, non so, ieri, me ne faccio un'altra, l'incontro che abbiamo avuto insieme con Fico, Fico parlava l'ennesima volta della legge sull'acqua pubblica, uno poi per cortesia non rintuzza, però se uno governa da anni alcune città e non fa l'acqua pubblica, sta in Parlamento da tanti anni e non fai più l'acqua pubblica, le parole sono belle, ma in politica poi si valutano alla fine la coerenza, il coraggio e i fatti, altrimenti di belle parole l'ha stricato la storia dell'umanità. Sindaco, per quanto riguarda le europee, insomma lei si è chiamato fuori dai giochi Vado a votare il 26 maggio Come un comune cittadino va a votare, quindi non le chiediamo per chi vota perché il voto è segreto, però le chiediamo dopo le europee, poiché le campagne elettorali si va a votare alle regionali, poi potrebbe darsi che ci sono anche le politiche, però sicura sono le regionali. E allora, Sindaco, che cosa fa? Veramente ha deciso di candidarsi in prima persona? Questa è una domanda... La domanda è legittima e la risposta credo che sarà sempre la stessa fino all'estate, fino a settembre, salvo che poi non ci accada qualcosa di particolare. Noi ci candideremo per vincere alle regionali del 2020. Noi intendo dire il laboratorio DEMA, Napoli, l'esperienza napoletana che si sta allargando su tutto il territorio campano. Vorremmo lavorare? Lavoreremo perché si vada con una coalizione più ampia alle elezioni per le regionali rispetto al modello Napoli e chiaramente nel fare questi incontri con realtà che potrebbero appoggiare un progetto di questo tipo si discuterà insieme qual è il candidato vincente. È chiaro che come ipotesi c'è anche quella di una mia candidatura. Lei ha parlato di una coalizione più ampia, cioè a chi si riferisce e sarebbe anche disposto a fare un passo indietro laddove ci fosse un... diciamo prendiamo questo candidato e allarghiamo la coalizione? Allora io assolutamente sì, io se dovessi decidere, anche su questo mi dovete dare atto, sono stato sempre sincero, la mia opzione principale sarebbe quella di trovare un candidato vincente, non Luigi De Magistris, per le regionali del 2020 e io continuare a fare il sindaco fino al 2021. Questa è l'opzione A. È chiaro, siccome poi c'è l'opzione vincere le regionali, se ci dovessimo rendere conto che è più probabile vincere le elezioni regionali con una mia candidatura, allora in quel caso prenderemo in seria considerazione l'ipotesi che io tra agosto e settembre sciolgo la riserva, perché chiaramente se dovessi essere in qualche modo candidato è una cosa che devo decidere, non due mesi prima di maggio, ma qualche mese prima. Quindi un dialogo aperto anche con, oltre agli scontenti del Movimento 5 Stelle, anche agli scontenti del PD o comunque quella parte del PD che non appeggiorano il governatore della campagna di Luca. Un dialogo soprattutto con quelli motivati a cambiare stagione politica a Santa Lucia. Abbiamo da fare 100 passi da San Giacomo, Piazza Municipio, verso Santa Lucia, per l'onestà e la legalità, quello sarà il percorso che metteremo in campo. E quindi sta lavorando per questo, poi ci informerà passo dopo passo. Non si può vincere in modo carbonaro. Passo dopo passo ci informerà su tutti quelli che sono i movimenti, i possibili movimenti. Sindaco, purtroppo ieri c'è stata una tragedia sfiorata a Napoli, essere colpito un ragazzo tedesco di 16 anni, colpito gravemente da un freggio che si è staccato da un palazzo. Poteva veramente andare peggio, anche se il ragazzo comunque ha dovuto subire anche un intervento chirurgico e ha detto giustamente se mi salverò non vorrò vedere più Napoli. Lei ha pensato di andarlo a trovare? Innanzitutto voglio esprimere la più sincera e profonda vicinanza per questo ragazzo. È ovvio che queste frasi, quando uno viene colpito così duramente, stanno all'ordine del giorno. Sono legittime. Però ci terrei anche a dire con tutta sincerità che episodi gravi come questo accadono in tutto il mondo. Quindi non si può bottare una croce sulla città. Quello si tratta di un edificio privato, però mi consente di fare una riflessione che la vera priorità del nostro paese è la messa in sicurezza del nostro paese. Cioè nel nostro paese cadono ponti e mica cade il ponte a Genoa, uno smette di dire non andiamo più a Genoa. Purtroppo il paese se ne cade. Se ne cade, l'abbiamo detto, non si fa manutenzione straordinaria, certe volte meno ordinaria. Non ci sono risorse per edifici pubblici e monumentali, ma anche per edifici privati. Quindi questa è una vera priorità su cui però non abbiamo ancora trovato un governo nazionale che investa in questo. Se un domani dovessi diventare o governatore regionale, presidente della regione, preferisco chiamare, o presidente del Consiglio, componente di un governo nazionale, sicuramente impegnerei tutte le risorse disponibili per la messa in sicurezza del nostro paese. Questa sarebbe la vera manovra economica. Non le varie misure, qualcuno anche utile, il reddito di cittadinanza, ma oggi il paese avrebbe bisogno di essere messo in sicurezza. Sicurezza con le forze di polizia, sicurezza degli edifici, sicurezza delle montagne, sicurezza dei fiumi. Quello è un piano che tra l'altro unirebbe tutti gli italiani, secondo me. Perché quando succedono queste cose... Perché mettere in sicurezza ci sarebbe un indotto che risolleverebbe il PIL della campagna. Invece di costruire certe volte opere pubbliche inutili o appunto dare soldi a fondo perduto, il reddito di cittadinanza tra un po' se ne accorgerà che abbiamo dato 8 miliardi per una misura tampone che dura qualche mese. Perché noi dobbiamo considerare che siamo un paese altamente sismico, per cui la messa in sicurezza è indispensabile. Voi vedete i dati della protezione civile nazionale sulla sicurezza delle scuole italiane. Anzi, io devo dire, approfitto per dire, che Napoli è tra quelle che maggiormente si è messa in regola sulla normativa antisismica nelle scuole. I soldi che abbiamo speso come Comune o Città metropolitana nelle scuole non si vedeva dall'80, mi ha fatto ricordare questo, dal periodo del terremoto. Quindi noi, nonostante città con tanti tagli e ristrettezze, per la sicurezza della città stiamo impiegando molte risorse e soprattutto nei luoghi di maggiore fragilità, appunto le scuole, dove stanno i bambini e i ragazzi. Sindaco, lei la settimana scorsa andò a Roma per far sentire la sua voce, sempre per i benedetti conto in rosso della città di Napoli, che serve assolutamente liquidità e serve comunque un investimento come le altre città. Lei ha criticato ampiamente il cosiddetto Salva Roma. A che punto siamo? Che risposte ha avuto da Roma? Perché lei poi va, parla, però dovrebbero tornare delle risposte. Le risposte arrivano perché domani è convocata una riunione a Roma molto importante, perché noi abbiamo detto proprio questo, non è che andiamo a perorare solo la causa di Napoli, tanto è vero che domani a Roma ci sono gli assessori al bilancio di tutte le città metropolitane d'Italia, che noi abbiamo detto no ai figli e figli astri, No 12 miliardi per Roma senza guardare chi ha molto più diritto, tra l'altro rispetto a Roma, che ha avuto due o tre leggi speciali e va a coprire debiti della città. Quindi la voce l'ho fatta sentire molto molto alta e noi su questa vicenda non molleremo, noi non consentiremo in alcun modo che passi il Salva Roma lasciando il resto completamente fermo. Poi il governo si vuole assumere la responsabilità di salvare per l'ennesima volta Roma, la capitale, la raggi per pura coincidenza e del Movimento 5 Stelle, quindi torniamo alla politica dei figli e dei figli astri. Ma il mezzogiorno di oggi non ci sta più Napoli per quello che ha fatto, ritorniamo al ragionamento di prima e alle belle parole di Fico. Allora io a questo punto lo disse anche pubblicamente, caro Fico, caro Di Maio, avete adesso la possibilità nel DEF, in tutti i provvedimenti di dare dei segnali e invece alle belle parole seguono i fatti che i parlamentari anche del Movimento 5 Stelle hanno votato a fine anno dove hanno fatto una bella sforviciata di 120 milioni di euro alla città di Napoli. Allora come possiamo mettere in sicurezza, come possiamo prendere gli assistenti sociali? Questo fa un po' rabbia a chi amministra da otto anni una città e che ha visto il suo popolo passare dalla rassegnazione, a certe volte al lamento, alla grande partecipazione, a cominciare dai territori più difficili, avete intervistato la preside, avete intervistato il parroco, avete intervistato le persone, gente che sta lottando, che ha dignità, che crede nel riscatto di Napoli. Lo Stato a questo deve guardare, con fatti, perché le parole pure servono, però se le parole non vengono seguite dai fatti, poi alla fine ti fanno innervosire ancora di più perché si senti un pochino, non dico presi in giro, però per chi lotta ogni giorno, le parole entrano da un'orecchia e escono dall'altra. E queste legittime richieste dei comuni li portate avanti anche come Anci? Perché noi sappiamo che lei, oltre a essere sindaco di Napoli, è anche vicepresidente dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Assolutamente sì, anche se devo dire che l'Anci ultimamente vive un momento di debolezza e l'impressione che non tratto, per ragioni anche di natura credo politica, il governo predilige maggiormente un'interlocuzione con i sindaci. Quindi l'Anci ha sicuramente il suo ruolo, lo svolge, eccetera, però in questo momento ci vorrebbe maggiore incisività, anche sulla vicenda del Salva Roma mi pare di non aver visto nessuna particolare dichiarazione significativa da parte dell'Anci, quindi a questo punto di vista Napoli si farà la sua battaglia e ci faremo rispettare. A Roma siamo andati, Roma ha convocato questa riunione e noi porteremo a casa il risultato. Se vogliono fare lo stralcio del debito, che sia stralcio per debito per tutti, per Catania, per Reggio Calabria, per Napoli, per Roma, per Torino, ma non solamente quando sei amico del sindaco di qualche comune, altrimenti viene proprio meno l'unità nazionale e la credibilità delle istituzioni. E in politica, insomma, sappiamo che anche in politica si vince se si è uniti, per cui insomma anche i comuni dovrebbero in qualche modo far sentire unitamente la loro voce. No, come sindaco ci lo siamo, l'Anci dovrebbe essere più incisiva. Dovrebbe essere un po' più incisiva. Sindaco, Napoli città pilota sul fronte della salvaguardia del mare, ieri sono stati consegnati e sono stati installati e donati dall'Asso Morosigni, l'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare, due Sibin, che sono praticamente due pattumiere del mare, le vediamo insieme, è importante perché a questo ci ricolleghiamo e lo ricordiamo che dal primo maggio è in vigore l'ordinanza no plastica sul lungomare Caraccio. Grazie a tutti. Allora sindaco, bellissime immagini, queste due Sibin sono stati donati all'autorità di sistema portuale del martirreno centrale, è importante, c'era anche il delegato al mare a Villani ieri durante questa cerimonia, è importante portare avanti questo discorso per la salvaguardia del nostro mare? Daniela Villani sta facendo anche un grande lavoro, con la nostra amministrazione per la prima volta c'è un delegato al mare, quindi noi abbiamo sempre puntato dall'inizio sul mare, adesso l'ordinanza che ricordava lei, anche stamattina la Lega Navale abbiamo fatto un'altra iniziativa con tanti partner che sempre di più sostengono questa grande mobilitazione, innanzitutto controllo in civiltà, perché sono persone che gettono la plastica al mare, e questa è la prima cosa più grave al di là dei consumi e delle produzioni. Poi bisogna intervenire sulle produzioni, sui consumi, sul commercio, là chiaramente bisogna avere quella pazienza necessaria, però i segnali che arrivano da Napoli sono molto incoraggianti, la città in prima linea in difesa dell'ambiente, del verde, della lotta ai cambiamenti climatici. Sindaco, siamo praticamente a Pasqua, una Pasqua ricca di tradizioni, abbiamo anche avuto la pastiera più grande del mondo a Napoli al caffè Gambrinus, che ha fatto veramente il giro del mondo. Un altro record bello. Un altro record bello, sono tante le iniziative e i riti che si svolgono in città per la Pasqua, l'amministrazione ha anche organizzato una serie di cose, cosa ci dice di questa Pasqua 2019? Penso che sarà un grande successo, gli indicatori anche economici che stiamo avendo sulla città sono straordinari, oggi si annunciava addirittura un ulteriore volo, l'ennesimo che da domenica collegherà Napoli ad Amsterdam e Amsterdam ovviamente a Napoli, insomma credo che saranno questi tre ponti, Pasqua poi il 25 aprile e il primo maggio saranno ricchi di viaggiatori della nostra città, di un'offerta culturale straordinaria, dalle mostre agli eventi, una città che piace sempre di più, io mi fermo a parlare con la gente che è entusiasta di Napoli da ogni punto di vista, insomma questo per noi è un grande peso anche di responsabilità, non è solo motivo di orgoglio e soddisfazione perché sappiamo che la città deve migliorare in molti asset, in molti servizi, ma siamo tutti quanti impegnati e siamo sul pezzo, però finalmente vedere una Napoli così straordinariamente affascinante in tutto il mondo e tra i viaggiatori che vengono da tutte le parti del mondo ci fa tanto piacere, tra l'altro in questi giorni si continuano a girare tantissimi film, l'amica generale 2 che si sta girando, quindi anche continua ad essere un set cinematografico, ci stiamo preparando delle università, insomma una città in movimento con difficoltà come dicevo prima, ma credo che ci faremo trovare pronti per questa Pasqua che se posso approfittare anche di fare gli auguri di Pasqua perché poi ci vedremo la prossima settimana quando Pasqua è passata. Sì, una Pasqua di tranquillità, serenità e gioia tra i parenti e gli amici e nella nostra amata Napoli o dovunque vogliate passare questo giorno importante che è di rinascita, resurrezione, rigenerazione, di guardarsi anche un poco dentro allo spirito fa sempre bene. Buona Pasqua. Infatti fermarsi e riflettere un attimo è importante per tutti noi, aiuta a crescere, Sindaco grazie, naturalmente tanti auguri da parte di tutta la redazione di Televomero, auguri a tutti voi che ci avete seguito e siete sempre più numerosi, redazione chiocciolatelevomero.it Buona serata a tutti, buonasera Sindaco, auguri. Buonasera, buonasera, buona Pasqua. Grazie a tutti.